È il giorno del mio matrimonio. Hai detto di sì, ma non eri convinta? Lo voglio. E invece... I pensamenti? Non vuole. No! E lei fa sempre la cosa più sicura e responsabile. E dovrà rivivere il giorno del suo matrimonio... ...finché non sarà davvero il più bello. Ricomincio da ieri. Vorrei poter avere una seconda possibilità. Domenica in prima serata, sulla 5.